Mi sento Gianni che bisogna fare una foto a volo per il calendario di Natale. Sì, volo facciamo veloce però. Mi raccomando, questa è una partita a Tosca, perché è Tosca. Non perdiamo la tocca, se ci segnano prima loro, non deve succedere. Non è fina la partita, fino al mio mandato non è fina, pur se stiamo tutti a zero. Però se stiamo 2-0, 1-0 noi, manteniamo la testa per le spalle, manteniamo la calma e continuiamo a giocare la palla come sappiamo qua. Daì, vedi che stai affrontando, e vedi una!